no dai spero che fosse cominciare queste cazze di video io no dai veramente dai no è cagato bene a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale nuclear gaming channel siamo qui oggi con black light retribution un gioco epico lasciatemelo dire come potete vedere hanno sparatutto e niente niente è un po sano nel gioco comunque è epico vabbè mi sono fatto stare meta in attimo vedete la pistola questo qui è un pisello nero è drogato è drogato se lo trova sta cazzo nei partiti oh vedi che disgusto viene vuoi sto pisellone arancione come un coglione allora bastardo allora abbiamo storato il qui che è fighissimo questa è un figlio di una mignotta andato un po' strano bisogna capirlo un po' come giocarlo perché è un po' difficile ma fai schifo il cazzo ok stanno dei profughi qua sotto ah ah no è fighissimo fighissimo amore ma il coglione che ricarica ma stupidissimo allora questo cazzo di gioco ha fatto una cosa fantastica perché se tu vai sulle impostazioni comandi sensibilità mira precisa grazie appena porco di quel porco non lo poteva non possono metterlo anche su code no 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 perché sono tutti gay come te ecco ti si comunque l'advanced a bufo lo prenderemo rispondiamo alla domanda che ci ha fatto francesco su nei commenti se adesso se apparirà qua sotto comunque questo spazio fermete fermete che c'è un filo se prenderemo advanced warfare è ovvio abbiamo già prenotato tutta la puttanata state zitto che stanno in fonde abbiamo prenotato già la collector addiction e le puttanate varie perché quel code sarà epico ragazzi prendetelo anche voi sarà epico l'ho giusto male col pisello nero c'è un altro qui stilt modo col coltello no me l'hanno killato dove stanno giocatelo pure voi faccio un botto dei live io al pomeriggio mi fumento un botto con questi si no è epico ragazzi sto gioco dove cazzo sta fare come vi chiedo la porta in faccia ho sbagliato cazzo via qui c'è uno no no c'è due tacchette di vita mi serve dove sta uno no please deposito poi per deposito questo cazzone qua no ci sta l'esoschietro allora cosa è è una cazzo di figata però adesso mi devo ricaricare un attimo le munizioni a salire efeee aaaa aaaaa muore 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 dopo che le cuffie aaa dopo che sarà ricaricata la salute amore uh usa l'iniezione vitale perianima che figata me l'hanno data grande cazzo bella cazzo bella bella via meravigliato guarda come te uno yeah guardamelo un'altra volta intesa che ti dico laggiù in fondo oh no non va bene così che bagata chi è becca adesso proiettili ah non c'è nessuno perfetto uh e muore male e muore male così signori miei signori signori un cazzone grosso schifo di sgustore oh cristo le munizioni le munizioni le munizioni le munizioni le munizioni fiordellose oh yeah via via postura ma no va me si vede ottava c'è sto giro non è stavo così che coglione no no vedi che sei morto teck in de sto pisello no neanche teck teck si anche se non mi scatare no ho scatare sono schifo perfetto oh 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 ho visto uno che stava a core non so che cosa ma uno un uomini d un orangutan ditemi se vedete pure voi bbc un botto dei commentari sui scimmie che cazzo sei muore 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 signori non morirà mai è morto perfetto guarda che fiume era bignotta non hai vita cioè non hai vita cioè muore non è morto è gustoso non so niente qui sono nero dai dai qualcun altro dai un po stai arriva eccolo eccolo pedrosso con rossita muerto Ma sai una cosa? A forza di stare nel mulino con Rosita Qualcosa dentro di me è cambiato Ti senti più genuino? No Cago le uova Rosso, golosso Qui sotto c'è un golosso Eccolo te lo golosso Golosso Che cazzo è? Mia Allora, ragazzi, sentite i rumori un po' brutti Ecco, quello lì è il suo scheletro È un pisellone nera Senza casco Madonna mia Bella, ragazzi, siamo soli, alleluia Finalmente Questo canale si chiamerà XKid Vaffacculo JustKid Con il nome di Così Fiogana non mi piace Ragazzi, scrivetemi nei commenti se mi devo fare la barba Ma che cazzo te come ho detto è? Eh, chat Scusami, la villa visuale Ma vedi che sei strozzo Guarda come muore Quasi cazzo Fermate 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 Che cazzo Fermate Fermate Valerino No, no Vallineo Oh, bella Oh, bella Oh, bella Bella Guarda Guarda me Oh, 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 oh Oh, era golosso di proiettili, golosissimi Anche lui sei golosso Strage Compulsive Oh Becasale Va abbastanza schifo molto bene siamo rimasti noi faremo un'altra partita adesso che cazzo di schifo vabbè te te sei un profugo vedi sei un profugo vedi come on no no non devi fare aiuto help 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 devi dire su sta cazzo del sedia ecco ci arriverò non ci crede no no epico cazzo ma io devo piegare lo scudo prossimo episodio più scudo vuole giocare con me faccio i live giochiamo un attimo insieme ci chiamo e richiesto amici belle vai vai chi è chi è perché me perché a me non ho fatto nulla di brutto sono ovunque oddio che culo rega 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 non potete capire che culo scappa scappa va aspetta non ammazzi nessuno non prende nemmeno i punti no allora rega andiamo un po' con sto granciapiselli dove stanno guarda come va brustorisco tutti perché a me perché a me non ti ho fatto nulla di brutto che hai mai visto ci che hai mai visto rega con tutti gli ordini che allora vi dico solo una cosa questo è l'ordine del game stop per i nuovi giochi basta ti ammazzano fermo che sto fanno a stragi che non stanno in cielo in terra hanno ucciso solo uno con caricatore però mi farò vedere lupi sellons se non mi ammazzano perché sennò mi cazzo come no come il bambino è gesù cristo tu me me l'ha inculato me l'ha incula no me l'ha incula me l'ha inculato basta io ti ho chiuso mister iaio sconfitta no 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 mister iaio questo gazzo takk raga t'ha finito giù la volta va beh raga è qua chiediamo il video naturalmente ricordatevi sempre di mettere il like qua sotto se può sapere cosa così mettete il like qua sotto mettete il like qua sotto vabbè mettete il like commentate diteci anche voi che giochi prenderete noi Lista molto lunga Comunque commentate Anche se vi è piaciuto questo video è tutto Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Per il resto Io mi metto i buffi all'incontrata Perché non mi stanno sul cazzo Quelli che adesso ne mettono così Per il resto Bella